A mo ma io stavo pensando, ma se Julio Iglesias ha fatto tutte le canzoni in italiano in romano e uno dice ma cazzo c'è il pezzo che Julio Iglesias ha fatto tutte le canzoni in italiano e uno dice ma cazzo c'è il pezzo che Julio Iglesias ha fatto tutte le canzoni in italiano in romano e tutto quanto voleva bene, ma perché BDS stanno racconto, cioè quando fai canzoni in inglese fanno le canzoni in inglese, ma che racconto? C'è.. in bacio ci fanno dicen BDS si stanno accidentalizzando ma come mai? c'è il from adults dejaranno loro, cioè vuoi fare canzoni in inglese, fare canzoni in coreano, fare canzoni in karoiano, fare canzoni in aramaico, fare canzoni in aramaico, si possono imparna la lingua loro, si possono imparcare la lingua per loro, c'è la band nell'oro , cioè ma magari questa cazzo viene dicen e bDSarsi con erano comicенное cazzo ma come fa una canzone in inglese, fa una canzone di lei in inglese, la verità è capullo, vedremo il culo, perché se vi chiesti fa una canzone in inglese, sta può succedere, 21 maggio fuori su tutte le piattaforme streaming digitali alle ore e mezzanotte del 21 maggio, orario americano, e orario 1 di pomeriggio, Korean time, che sono le 6 del mattino, per il fuso orario central european time da noi, cioè io voglio ricerci, loro ora fa una canzone in inglese, la verità è che a voi ve l'ha mandato, perché a voi vedremo il culo, perché si fa una canzone in inglese, e ora una canzone in inglese fa una sci, chi se si mettele in dei charts, in dei classifici, non descene più fino al 2022, perché c'è ora Dynamite è taciuto, quante messe fa? A agosto, sono passati 6-7-8 messe, e sta ancora là, wewe, hehehe, 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 a kag much gods, e questa volta sarà vege dynamite, come dicevo, inizialmente, come dicevo, dicevo. Tacone, att Henderson, ades japan time, hualaru profiles, adesial internally.